L'affondo di questa settimana, che sarà anche l'ultimo affondo dell'anno, ma torneremo sempre al martedì, sempre in esclusiva su TV Loft l'anno prossimo, a chi lo dedico? Lo dedico al Quirinale. Chi sarà il nuovo capo dello Stato? Sarà un nome terrificante come Berlusconi? No. Sarà un nome molto brutto come Cassini? È possibile. Sarà un nome molto bello come Bersani? Sicuramente no. Questo e tanto altro, solo e soltanto dentro TV Loft. In esclusiva su TV Loft. Abbonati su tvloft.it e scarica l'app. Ora disponibile anche su Smart TV.